Per tutti quelli che amano il calcio, oggi finalmente dall'UEFA una buona notizia, una decisione saggia, bella, che favorisce lo sport e la competizione. Sono stati aboliti dopo, io non lo so quanti anni, ma non ricordo veramente la cosa fatta in maniera differente. Comunque sono stati aboliti il gol in trasferta che valevano doppio. Ragazzi, questa è una notizia bellissima. Quante volte abbiamo visto partite imballate con le squadre che avevano paura, soprattutto la squadra magari più forte, o che si pensava che fosse più forte, che aveva una paura folle di prendere magari un gol in casa, che poi in caso di parità poteva compromettere completamente una qualificazione. Ragazzi, questa è una befe di game. A volte, vedete, l'UEFA a volte anche ha delle decisioni belle, belle, complimenti, applausi all'UEFA. Poi ragazzi, volevo solo commentare il boato che non sentivamo da, sembra da un secolo. Ieri al gol dell'Ungheria mi sono veramente accordo che c'era il pubblico allo stadio. È stata veramente una grandissima emozione. Che bello ragazzi, il pubblico, che bello. Questo è il calcio. Ciao a tutti.